Ben ritrovati i tifosi di Rosanero d'Astoro, prosegue il ritiro del Palermo dopo il test di ieri contro il calcio chiese. I Rosanero hanno svolto oggi una doppia seduta di allenamento al mattino per la squadra di Iachini. Lavoro di carattere tecnico e atletico nel pomeriggio. La tensione si è concentrata maggiormente sulla tattica, la seduta si è poi chiusa con una partita in campo ridotto. Roberto Vitiello ha regolarmente svolto la seduta in gruppo ad eccezione della parte tecnica finale, in particolare della partitella. Riposo post-operatorio invece per Michel Morganella. Dicevamo della tanta tattica svolta dai Rosanero, questo perché domani il Palermo sosterrà il suo sesto test del precampionato. L'avversario di giornata Lala Li, squadra degli Emirati Arabi Uniti. Calcio d'inizio alle 18 al Grilli di Storo che sarà sede anche dell'ultimo test del ritiro a Rosanero, lunedì contro l'Alcor. Squadra questa invece del Qatar, domani per il Palermo anche un allenamento mattutino. Naturalmente tutti i contenuti, le news, le fotogalleri e le videogalleri di giornata su palermocalcio.it.